Io devo dimostrare tutto, adesso ricomincia una nuova carriera, certo mi sento pronto per la sfida, ma sarà il lavoro, saranno i risultati che devono confermare, diciamo questa sfida, diciamo che posso superare, posso certificare il valore che mi stanno intanto in questo momento, perché sono in una serie molto importante che vedo in Milan, e quindi non mi sento pronto, mi sento pronto per questa sfida, è una sfida e mi piacciono le sfide. Se abbiano dubbi è giusto che li esprimano tranquillamente, perché si capisce, sono possibile avere dubbi, però dovete dirmi una cosa solo, quanti persone hanno cominciato a lavorare con esperienza, sono poche nel mondo, il coraggio che si vuole, nel Milan ha dimostrato o l'unico impostato, e anche miliever perché non ti sceglie lo bambino, che prima è le tale strante di fare delle nostre vicende. Grazie.